Valutare la vulnerabilità di strutture strategiche come ospedali, comandi dei vigili del fuoco e centri di coordinamento che in prima linea siano in grado di fronteggiare qualsiasi emergenza. Il Dipartimento della Protezione Civile vuole mettere questi edifici in sicurezza e per questo ha scritto tutto in un documento illustrato stamani in Prefettura a Potenza. L'obiettivo è fondamentale. Una valutazione delle infrastrutture di collegamento fra esse e diramate verso il territorio, soprattutto finalizzate a comprendere in una situazione di emergenza se è possibile fruire di queste strutture e eventualmente quali interventi è necessario fare per metterli in sicurezza. La gestione dell'emergenza passa anche dalla definizione dei contesti geografici, i cosiddetti ambiti territoriali ottimali. Sono i luoghi dove in caso di necessità bisognerà garantire il raccordo con i centri operativi. Otto nel Potentino, oltre a Potenza, Lauria, Marsico Vetere, Melfi, Rio Nero Invultura e Sant'Arcangelo Senise e Tito, quattro invece nel Materano, con Matera, Pisticci, Grassano e Policoro. Che tengano conto non solo della dislocazione geografica e delle infrastrutture, ma dell'omogeneità in termini di scenari di evento. Quindi l'appartenenza a un bacino idrografico, la stessa e omogenea classificazione sismica. A 40 anni dal terremoto molto è cambiato, anche il clima. Bisogna continuare nella ricerca delle applicazioni anche tecnologiche più moderne. Questo anche in relazione ai mutamenti climatici che sono la nuova emergenza che stiamo vivendo.